Il Flaiano Film Festival torna a Pescara per la 44esima edizione dal 28 giugno alla 7 luglio. 30 film per 10 giorni al Cinema Sant'Andrea con particolare attenzione alle cinematografie minori. Il Festival aprirà mercoledì 28 con la proiezione del film Un'avventura romantica di Davide Cavuti, regista e compositore di Francavilla al Mare che insieme a Edoardo Siravo e Lino Guanciale riceverà il Pegaso d'oro per il cinema. Il film documentario è un prezioso documento che ricostruisce la vita di Alessandro Cicognini, compositori abruzzese, attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Tre le retrospettive del Festival, concorso italiano Flaiano Opera Prima, rassegna nuovi orizzonti, rassegna cinema ritrovato. Il 9 luglio i premi internazionali Flaiano in diretta come sempre su Rete 8 da Piazza Salotto a Pescara. Sì, Flaiano Film Festival che quest'anno comincerà il 28 giugno e andrà avanti fino al 7 luglio e torna a Pescara. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Pescara Abruzzo si svolgerà la programmazione al Cinema Sant'Andrea e questo ci riempie di gioia perché è una richiesta che ci proveniva da più parti e quindi il Flaiano è di nuovo tutto a Pescara con la serata finale che si terrà a Piazza Salotto il 9 luglio. Il Flaiano che torna in piazza? Sì, dopo l'edizione del 2013 e del 2014 quest'anno con la collaborazione del Comune anche grazie agli sponsor istituzionali e privati la festa, i premi verranno consegnati in Piazza Salotto ed è una partecipazione più ampia a cui teniamo moltissimo perché con l'andare degli anni ci siamo resi conto che il Flaiano sta crescendo e sta non soltanto per importanza ma sta contribuendo in modo sostanziale alla diffusione della cultura perché ricordiamo sempre che i premi Flaiano sono un progetto culturale perché senza cultura non c'è progresso.